Il castello e la fornace Il castello e la fornace Io dedico anche del recupero di una identità e soprattutto la possibilità di aggiungere un altro pezzo recuperato al degrado Siamo già al lavoro, oggi stesso ho dato mandato all'ufficio tecnico per predisporre la immissione in possesso Noi già siamo nel possesso giuridico dell'area, circa 2300 metri quadrati Lo saremo anche materialmente ma con anche un'opera immediata di pulizia e di recinzione Quindi partiamo subito per il progetto e per il recupero immediato della fornace Un progetto che è partito dal 2007, da quando si è insediata questa amministrazione comunale Quella di acquisire al patrimonio della città quelli che sono i monumenti, i simboli più importanti Che ahimè erano di proprietà di privati Questi che sono i simboli della nostra città, che sono l'identità di Agropoli Averli riportati alla fruibilità del patrimonio della nostra città Sono i ricordi indelebili che rimarranno sempre nelle pagine della storia